Omini e femmini, popolo tutto, audite, anno d'omini del 1529, vi facimo presente che messer Giovanni Antonio di Acquaviva d'Aragona, lo Marchese Nuestro e Comite de Loia, con donne Isabella Spinelli, de chessa civitate, di mani veneno intro lo feudo di Acquaviva. Acquaviva d'Aragona 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.